Gentili telespettatori, buona giornata. Nuovo decreto in arrivo. Ci saranno controlli sui bonus edilizi, utilizzo del POS, Bancomat, evasione. Vediamo che cosa ha pensato questa volta il governo dei migliori. Un pacchetto di misure per agevolare e accelerare il percorso e l'operatività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quasi quasi sembrerebbe che Draghi voglia accelerare per piantarli questo governo ad agosto e sarebbe una fantastica notizia poter andare a votare ad ottobre come si vocifera in questi giorni dalle indiscrezioni che arrivano dai Palazzuna di Roma. E' il contenuto del decreto che il CIDM, Consiglio dei Ministri, si appresta a varare. Mentre gli interventi in materia di energie, caro e bolletto, restano da definire e verranno approvati dopo Pasqua. Natale con i tuoi, Pasqua con le bollette. Il governo è dunque in dirittura di arrivo con gli interventi che dovrebbero agevolare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Bene, sono sosseguite le riunioni a Palazzo Chigi, c'è il pacchetto per, prima di tutto, per contrastare l'evasione fiscale che dal dopoguerra tutti i governi che si sono succeduti stanno cercando di contrastare, non c'è riuscito mai nessuno. E uno dei temi più importanti a corredo del recovery plan sarebbe quello di limitare proprio l'evasione fiscale, ma è un'utopia. Nello specifico si tratta della norma che anticiperebbe al 30 giugno, anziché al primo genio 2023, il termine per fare scattare la sanzione nei confronti dei commercianti che non si adeguano all'utilizzo del POS. Un'ulteriore misura dovrebbe incentivare la lotteria degli scontrini, attese anche l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, verifiche più stringenti sui bonus edilizi e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei dati dei pagamenti elettronici con le carte. La certezza sul via libera alle misure anti-evasione si avrà dopo l'incontro tra il Premier Draghi e i leader del centrodestra Salvini e Tajani per affrontare i nodi irrisolti della legge delega sul fisco, o meglio, quello che vorrebbero cambiare Lega e Forza Italia, sapete siamo verso le elezioni e pertanto hanno bisogno di piantare le loro bandierine per l'elettorato. Intanto c'è anche l'intervento per l'elettrificazione dei porti, la digitalizzazione delle reti idriche, oltre che incentivi per la mobilità nel pubblico impiego. Una volta varato il decreto il Governo tornerà ad essere assorbito da altri provvedimenti, quello per contenere i prezzi dei carburanti e dell'energia. Malgrado le continue richieste di aumentare il debito, quello che chiamano più elegantemente lo scostamento di bilancio, Draghi e Franco, il Ministro dell'Economia, vogliono esclusivamente fare ricorso a 5 miliardi liberati dal DEF, mettendoli a servizio del decreto che entro la fine del mese dovrà rinnovare lo sconto di 0,30 centesimi sui carburanti. La misura confermata fino al 2 maggio è già costata un miliardo alle casse dello Stato. E poi nuovi incentivi, nuovi interventi per cercare di abbassare le bollette sia per le famiglie che per le imprese del gas e della luce. Ma intanto questi soldi dovranno anche finanziare il fondo per le PMI colpite dalla crisi e allo stanziamento per compensare i rincari delle materie prime. Dal Ministro della Transizione Ecologica Cingolani dovrebbe arrivare la misura con le semplificazioni per accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili e cercare di sbloccare tutta quella parte burocratica che sta bloccando tutte le nuove concessioni permessi perché questa transizione ecologica sta bloccando due concessioni su tre per tutti i tipi di richieste per produrre energia. Diciamo che l'Italia in questi anni si è fermata, non è progredito nella ricerca di nuove fonti di energia, si è completamente seduta nel tanto compriamo il gas fuori, compriamo l'elettricità fuori, compriamo il petrolio fuori e adesso è arrivato il conto. Niente energia nucleare perché no, perché è pericolosa mentre ce l'hanno gli stati vicini, pensate la Francia ha 56 centrali nucleari, se succede qualcosa in Francia arriva direttamente da noi in poche ore o prima di poche ore. La scelta tanti anni fa di dire no al nucleare ha portato oggi a questa situazione perché se oggi avessimo come la Francia il nucleare e il gas costa troppo mettiti il riscaldamento elettrico e avremmo avuto l'alternativa almeno. Dici il gas è troppo costoso, spegne i caloriferi, metti mini split, energia elettrica. Ecco, questo si sarebbe potuto fare, invece il paese è esposto agli sbagli del passato ma anche del passato recente. No Trivelle e no di qui e no Tav. No, vi ricordate i grillini? No Tav. Il Tav è il tubo del gas. No, 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 no Tav. Eh, no, 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 no. Beh, per fortuna è che i danni dei 5 Stelle sono limitati a questi 5 anni dal prossimo governo. I 5 Stelle probabilmente non ci saranno più come parte del governo e saranno all'opposizione e si spera anche per lungo tempo, così da non poter più fare danni all'Italia. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento delle entrate, proseguimento delle entrate tipo agenzia delle entrate, no? Più che proseguimento delle entrate e delle uscite, proseguimento di giornata. Quando uno parla sta già pensando al prossimo video. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qua sul canale, se no su Tele Italia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Ci vediamo a presto, arrivederci a tutti e grazie.